3 milioni e mezzo di bambini rifugiati non vanno a scuola, fuggono dalle guerre e dalle persecuzioni. Ma è a scuola che ricominciano a sorridere e a sognare. UNHCR si impegna per garantire loro un'istruzione. Dona al 45516, invia un SMS da 2 euro e regala un mese di scuola a un bambino rifugiato, oppure chiama da rete fissa e dona 5 o 10 euro. Mettiamocelo in testa, solo l'istruzione può salvare la vita e il futuro di un bambino rifugiato. Grazie.